Oggi è stata un'altra bellissima tappa, siamo stati più fortunati rispetto ai professionisti perché siamo arrivati un'ora e mezza, due giusto per non prendere la pioggia, ci siamo divertiti molto anche perché il percorso era veramente veramente bello, soprattutto da affrontare con le bici elettriche, era pieno di su e giù, tutti gli ospiti sono divertiti veramente tanto, l'ho visto tutti molto molto entusiasti. Per proseguire il giro cerco di essere fiducioso soprattutto riguardo al meteo, nel senso che saremo praticamente noi le cavie per quello che è l'affrontare le grandi montagne ad ottobre, nessuno l'ha mai fatto, nessuno ha mai corso l'ottobre sullo Stelvio e sui passi alpini, quindi saremo poi i pionieri noi. Speriamo che il tempo ci assista come sta facendo fino ad ora e spero che anche la situazione covid rimanga sotto controllo.